Ci siamo, inizia la stagione anche per il calcio femminile. Juventus-Barcellona e Fiorentina-Arsenal sono le due prove per le italiane all'esordio in stagione contro queste due squadre in Champions League. Prima però di iniziare ad analizzare, partendo da Juventus-Barcellona, devo innanzitutto ringraziarvi perché siamo arrivati oltre mille iscritti e quindi è una community che si sta allargando sempre di più e questo vi ringrazio perché vuol dire che c'è fiducia nei nostri confronti e poi ovviamente devo anche chiedere scusa perché negli ultimi giorni siamo stati un po' assenti, un'assenza però giustificata perché abbiamo pianificato un po' quello che sarà il programma per questa stagione che sta iniziando. Juventus-Barcellona, partiamo subito. Possibilità per le bianconere di Rita Guarino di passare il turno contro la finalista dell'ultima Champions League? Poche, poche perché il Barcellona è una squadra più forte, con più esperienza, la Juventus è soltanto alla seconda partecipazione in Champions, il Barcellona invece negli ultimi quattro anni è uscita soltanto o per mano dell'Olympic Lione o per mano del Paris Saint-Germain. Non c'è stata un'altra squadra che abbia saputo battere in Europa il Barcellona e questi ovviamente sono dati da tenere d'occhio, da tenere in considerazione per le bianconere di Rita Guarino. Rita Guarino che in conferenza stampa tra l'altro ha detto in assituto che non ci sarà. Buonanzea per infortunio, l'attaccante che ha fatto molto molto bene nell'ultimo mondiale con la nazionale italiana, non ci sarà ma questo lo sapevamo anche Cecilia Salvai che è rimasta vittima di un brutto infortunio nella gara dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina nella stagione scorsa, un infortunio che l'ha fatto saltare anche il mondiale di Francia e che quindi ancora la tiene ferma ma tornerà nel corso delle prossime settimane. Poi Rita Guarino si è anche lasciata andare ad un commento su questa tipica, è una cosa tipicamente italiana, quella di iniziare ovviamente per quanto riguarda il calcio femminile la stagione prima che con il campionato con una gara dei Champions e questo ovviamente secondo Rita Guarino ha detto è un handicap perché per quanto riguarda le italiane arrivi a una competizione europea con una squadra ancora non rodata e su questo ha anche più di qualche ragione Rita Guarino. In estate il calcio mercato della Juventus non è stato un mercato sontuoso, è stato un mercato mirato però due arrivi, anzi tre arrivi, uno è il secondo portiere che però ovviamente avrà il tempo, non avrà tantissimo tempo di scendere in campo perché c'è Laura Giuliani saldamente tra i pali della Juventus però ci sono due acquisti interessanti. Il primo è Andrea Stascova, attaccante classe 2000, anche lei non è arrivata per fare la titolare però è veramente molto interessante perché a 16 anni l'esordio in Champions League e a 19 anni da compiere già 8 presenze in Champions e 3 gol. Viene dallo Spartapraga, l'ultima stagione 32 gol in campionato, hanno convinto il club bianconero a puntare sulla Stascova che quindi arriva in Italia per la prima esperienza in Serie A. L'altra invece è Linda Sembrandt, terzino, che giocherà titolare contro il Barcellona, prenderà il posto proprio della Salvai, arriva dal Montpellier, campionato francese e quindi più qualitativo rispetto a quello italiano, se non altro perché in Francia le competitors di PSG e Olympique Lyon devono un po' adeguarsi, provare ad adeguarsi a quelli che sono gli standard appunto di due delle principali squadre del mondo e quindi quantomeno ci devono provare le francesi. Il Montpellier è una delle quelle squadre che negli ultimi anni ha provato più di tutte a ridurre quel gap che c'è con Olympique Lyon e PSG. Gioca anche in pianta stabile con la nazionale svedese, terzo posto nell'ultimo mondiale, terzo posto al mondiale di Germania 2011 e sconfitta in finale dalla Germania nella finale olimpica di Rio 2016, quindi è una calciatrice abituata agli scontri internazionali anche di alto livello. Arrivano poche di qualità per la Juventus ma restano tante, su tutte Saragama, capitano, simbolo del calcio femminile italiano, ormai specialmente dopo l'ultimo mondiale Saragama è sinonimo del calcio femminile dei nostri tempi in Italia, resta anche ovviamente Cristiana Girelli che avrà una doppia responsabilità nella gara contro il Barcellona perché manca la buonanzea e quindi tutto il peso dell'attacco sarà proprio su Cristiana Girelli. C'è ovviamente ancora Laura Giuliani, portiere della nazionale e della Juventus, c'è anche ed è questo dovrebbe essere l'anno della consacrazione di Eniola a luco nigeriana, velocissima, un po' intermittente nell'ultima stagione, non ha dato quella continuità che ci si aspettava, quando gioca, quando è in palla è devastante, sull'esterno rientra sul piede preferito e poi va alla conclusione calciatrice che quando è in forma è devastante però deve allungare il suo stato di forma, deve provare a dare continuità. È arrivata l'estate scorsa dal Chelsea quest'anno alla seconda, stagione con la Juventus è chiamata all'anno della consacrazione. Non ci sarà, come detto, contro il Barcellona buonanzea, allora là davanti i casi sono due. O sale accanto ad Alucó e Girelli una tra Cernoia e Aurora Galdi a comporre quindi un tridente un po' atipico, oppure ci sarà la sola Girelli là davanti con Alucó pronta a guardare le spalle e quindi la Juventus potrebbe giocare anche con questa formula con una seconda punta, diciamo, ed una punta di ruolo come Girelli. Veniamo adesso al Barcellona invece. Barcellona, come detto, finalista dell'ultima Champions, negli ultimi quattro anni solo Olympique Lyon e PSG sono state in grado di eliminarla. È una squadra che anche nel caso appunto delle Blaugrana non ha cambiato tanto in estate perché non aveva bisogno di cambiare una squadra che ha fatto veramente molto molto bene nell'ultima stagione coronata con la finale persa contro l'Olympic Lyon in Champions League. L'arrivo però di punta è Jenny Hermoso, arrivata dall'Atletico Madrid a campione di Liga lo scorso anno, 24 golli in 28 presenze nell'ultima Liga. Jenny Hermoso è anche una delle calciatrici migliori dell'ultimo mondiale di Francia. È veramente un acquisto internazionale per quanto riguarda il Barcellona che tra l'altro la vede tornare con i colori Blaugrana perché era già stata al Barça dal 2014 al 2017. In tre anni due Liga e una Coppa della Reina che altro non è che la Coppa del Rei al femminile. Quindi è un ritorno gradito, dolcissimo per Jenny Hermoso e per il Barcellona. In là davanti però il Barça ha veramente altri giocatori importanti, su tutte Lieke Martens, olandese trascinatrice dell'Olanda all'ultimo mondiale e poi c'è anche per esempio Stefanie Vantergrat, giocatrice in realtà che gioca in difesa olandese, arrivata nel 2018 dall'Ajax. Tra l'altro Vantergrat è colei che di fatto ha eliminato la nazionale italiana dall'ultimo mondiale segnando il gol del 2-0. Colpo di testa su cross da destra, calcio di punizione, palla dentro e nessuna speranza poi per la nazionale italiana con in porta proprio Laura Giuliani. Quindi sarà un ritorno, quindi si incontreranno Laura Giuliani e Stefanie Vantergrat. Un'altra giocatrice interessante da tenere d'occhio per il Barcellona è la Wacabi, una vita al Barça, tranne una parentesi al Valencia, anche lei nel giro della nazionale spagnola ha preso parte all'ultimo mondiale. A centrocampo le geometrie di Patricia Ghicarro, classe 98, ha vinto tutto a livello giovanile con la nazionale spagnola, tra l'altro è stata capocannoniere nel 2018 con la nazionale under 20 spagnola che ha vinto appunto il mondiale di Francia under 20. E Patricia Ghicarro è una delle nuove leve, della nuova generazione del Barcellona, questo sa significare che il Barça non è soltanto così come nel calcio maschile tanto passato, tanta storia, ma è anche un continuo ricambio generazionale. In panchina un altro che ha un forte legame con il Barcellona, ovviamente al Barça gli arrivi e soprattutto chi sta sulla panchina del Barcellona non è mai a caso. Franz Sanchez è una classe 77, quindi molto giovane, tra l'altro è da praticamente una vita al Barcellona, è cresciuto da allenatore intendo sulla panchina delle giovanili del Barça, ha visto crescere un giocatore come Sergi Roberto, lo ha allenato, ha allenato un giocatore come Marc Bartra che ha giocato nel Barcellona, adesso gioca nel Betis di Siviglia e poi non lo ha mai allenato ma lo ha visto crescere e lo conosce molto bene perché ha visto crescere la sua progressiva esplosione, Leo Messi, lo ha visto prima nella terza squadra del Barcellona, praticamente nelle giovanili, poi nel Barça B e poi nell'esplosione definitiva nella prima squadra del Barcellona lo ha visto nelle sue tappe di crescita, l'allenatore attuale appunto della Barcellona femminile. Dunque, pronostico, la Juventus ovviamente non ha le carte in regola per battere una squadra come il Barcellona però può contare su un club, una squadra, ovviamente un club abituato alle partite internazionali e una rosa che l'anno scorso ha fatto vedere grandi cose a livello italiano, bloccata in blocco, perdonate il gioco di parole, nel mercato tutte le calciatrici della Juventus che dopo il mondiale con la nazionale italiana hanno sicuramente acquisito caratura internazionale da spendere subito contro il Barcellona.